Non solo Primavera 3 per la JUT dell'US Avellino 1912, il progetto ad ampio raggio voluto fortemente dalla famiglia d'Agostino vede partire anche il campionato femminile. Le lupacchiotte rosa affronteranno le categorie Under 17 e Under 15, entrambe sono state inserite all'interno del Girone A. Le prime sono state inserite nel raggruppamento con Benevento, Calcio Pomigliano, Napoli Femminile, Napoli S.P.A. e Salernitana. L'Under 15 con Benevento, Calcio Campobasso, Calcio Pomigliano, Napoli Femminile, Casertana, Potenza Calcio e Villaricca Calcio. Il debutto dell'Under 15 avverrà in casa contro il Benevento. Negli ultimi anni il mondo del calcio femminile ha avuto una grossa cassa di risonanza con diversi club che spiccano, tra cui la Juventus, Napoli, Roma e Fiorentina. Ecco il progetto del settore giovanile tocca anche il mondo in rosa, società dunque che vuole essere un modello da seguire su ogni singolo aspetto. Uno sviluppo partito nel 2015 con il primo piano della FIGC con l'inserimento graduale di norme relative al calcio femminile all'interno delle licenze nazionali che proseguirà anche nella stagione 2022-2023 con l'adozione del professionismo in massima serie. Grazie a tutti.